Ciao, in questo video parleremo della gluconeogenesi in modo più semplice e lineare possibile. Spero che questo video, come gli scorsi e i prossimi della playlist di biochimica, ti siano d'aiuto per comprendere a fondo questi processi. Ho diviso in modo sequenziale questi video per far sì che, seguendoli dall'inizio alla fine, si possa avere un quadro completo della biochimica. Per cui ti consiglio di seguirmi e, visto che ci sei, di iscriverti al canale. Iniziamo subito la parte della gluconeogenesi con una breve contestualizzazione da fare. Nei mammiferi i tessuti dipendono fortemente dal glucosio. Alcuni organi come il cervello, gli eritrociti o i tessuti embrionali ne sono completamente dipendenti. Il glucosio e gli zuccheri rappresentano praticamente l'unica fonte di energia, la principale fonte di energia che viene utilizzata dalle cellule cerebrali. Infatti i grassi, che sono un'importante fonte di energia metabolica, non possono passare la barriera ematoencefalica e quindi non rappresentano direttamente una fonte di energia per il cervello. Per il suo corretto funzionamento il cervello ha bisogno di circa 120 grammi di glucosio al giorno, ovvero la maggior parte della quantità di glucosio utilizzata dall'intero organismo, che è di circa 160 grammi. Questo significa che dopo poco meno di due giorni di digiuno si esaurirebbero tutte le riserve di glucosio, perché le riserve alle quali l'organismo umano può ricorrere sono di circa 120 grammi di zucchero nel circolo sanguigno e circa 190 sotto forma di glucosio. Questo però non succede perché durante i periodi di digiuno il glucosio viene formato dal fegato a partire da fonti non saccaridiche e questo è essenziale per garantire la sopravvivenza. Il glucosio ha quindi un ruolo insostituibile e abbiamo visto la glicolisi, ma oggi invece di parlare della via catalitica di demolizione del glucosio a formare il piruvato, diamo uno sguardo alla via anabolica corrispondente chiamata gluconeogenesi. La gluconeogenesi o nuova genesi del glucosio sarà la via metabolica che non potrà seguire esattamente le stesse tappe metaboliche descritte dalla via glicolitica al contrario, perché ci siamo detti in quel video che tre tappe sono irreversibili, per cui non possono essere percorse in senso opposto. Intanto dobbiamo comprendere che la gluconeogenesi genera glucosio a partire da precursori che non siano dei carboidrati o degli zuccheri. Questi precursori sono soprattutto amminoacidi, il lattato e il glicerolo, ed è una via che avviene sostanzialmente a livello del fegato e in piccola parte a livello del rene. Il muscolo o il cervello non sono in grado di formare il glucosio a partire da precursori non glucidici. In genere ci riferiamo al fegato e il piruvato non dipenderà dal glucosio, altrimenti si avrebbe un ciclo futile, ovvero un ciclo in cui le due vie metaboliche avvengono simultaneamente in direzioni opposte senza dare un effetto reale, ma soltanto disperdendo energia. Quindi il piruvato deriverà da altre fonti, come dal lattato, che si forma a livello dei muscoli in determinate condizioni, esportato e utilizzato per sintetizzare di nuovo glucosio. Oppure può derivare da alcuni amminoacidi. Gli amminoacidi, infatti, dal loro scheletro carbonioso possono dare origine a piruvato, oppure altri possono dare origine a quelli che sono gli intermedi del ciclo di Krebs, che vedremo vengono convertiti nell'ossalo acetato un intermedio della gluconeogenesi. Soltanto due amminoacidi, che sono la leucina e la lisina, non sono in grado di essere utilizzati come dei precursori della sintesi del glucosio, mentre tutti gli altri sono detti glucogenici, in quanto il loro scheletro carbonioso può essere utilizzato per sintetizzare il glucosio. Bene, tutta questa era una contestualizzazione da fare per capire a fondo l'utilità di questo processo. Adesso vedremo quali sono tutte le reazioni. Ci siamo detti negli scorsi video, che se non hai visto ti consiglio di recuperare, che nella glicolisi ci sono tre reazioni, che vi evidenzio qua, che sono irreversibili, ovvero la conversione di glucosio a glucosio 6-fosfato tramite l'esochinasi, la conversione del fruttosio 6-fosfato al fruttosio 1,6-bifosfato tramite la fosfo-fruttochinasi e la conversione del fosfenolpiruvato a piruvato tramite la piruvatochinasi. Se noi ora vogliamo convertire il piruvato in glucosio e percorrere al contrario tutte queste tappe della glicolisi, sappiamo che ci devono essere almeno tre vie alternative in cui dovremmo trovare dei modi diversi e quindi degli enzimi diversi che ci permettono di fare quella reazione. Partiamo adesso dalla prima tappa e ricordiamoci che per formare una molecola di glucosio saranno necessarie due molecole di piruvato. Se non è chiaro questo concetto ti rimando al video della glicolisi perché è molto importante conoscere e capire questo processo di gluconeogenesi avendo già chiara la glicolisi. Purtroppo la prima tappa è anche quella più noiosa in cui spesso si fa confusione, quindi adesso doppia attenzione, passata questa è tutto più semplice ma ora massima concentrazione. La prima tappa ci permette di convertire il piruvato in fosfoenolpiruvato e visto che questa era una delle tre reazioni irreversibili abbiamo detto dovrà percorrere una via alternativa. Infatti il piruvato viene prima trasferito dal citosol al mitocondrio e tramite la piruvato carbossilasi sarà carbossilato a ossal acetato, un acido bicarbossilico a 4 atomi di carbonio che è un alfa chetoacido. Questa reazione è ATP dipendente, non avverrebbe spontaneamente ed è importante anche per l'enzima mitocondriale che la catalizza, ovvero la piruvato carbossilasi che per poter funzionare ha bisogno di un cofattore che possiamo definire un gruppo prostetico, la biotina. Quindi detto tutto questo il piruvato nel primo passaggio deve entrare dal citoplasma al mitocondrio, reagire con il bicarbonato, ovvero la forma in cui l'anidride carbonica si trova in soluzione acquosa e grazie alla piruvato carbossilasi con la biotina e l'ATP si dà origine all'ossalo acetato tramite il lavoro di questo enzima. In particolare avevamo parlato della biotina in uno dei video iniziali sulle vitamine. Ad ogni modo la biotina è la vitamina B8, l'uomo non è in grado di sintetizzarla ma deve introdurla con la dieta e nella piruvato carbossilasi risulta legata covalentemente all'enzima e proprio la biotina funge da trasportatore del bicarbonato attivato ovvero il bicarbonato che viene attivato tramite l'azione dell'ATP dove appunto il bicarbonato tramite un attacco nucleofilo sul gruppo in gamma dell'ATP libera ADP e forma il carbossifosfato, un anidride mista, un composto ad alta energia e con l'attivazione la biotina si attacca al carbonio del gruppo carbossilico, si forma la carbossibiotina e si libera un fosfato. Adesso entrerà il nostro piruvato, il carbonio in beta del piruvato perde un protone tramite la deprotonazione favorita da un gruppo basico presente nel sito attivo dell'enzima e il carbagnone attacca il carbonio del gruppo carbossilico. A questo punto la biotina si rigenera nella sua forma originaria e il piruvato è stato carbossilato con formazione dell'ossalo acetato. Quindi tutto questo caos ben riordinato era relativo unicamente alla prima tappa della gluconeogenesi o meglio siamo a metà della prima tappa perché attraverso questo meccanismo di reazione a ping pong, si dice così proprio perché entrano prima due substrati ed escono due prodotti, il piruvato dal citosol è entrato nel mitocondrio. Nel mitocondrio ha subito questo processo di carbossilazione ATP dipendente e si è formato tramite questo processo che abbiamo appena visto l'ossalo acetato che ora dovrà essere convertito nel nostro fosfenol piruvato. Ma questa reazione di conversione dall'ossalo acetato al fosfenol piruvato avviene di nuovo nel citoplasma quindi l'ossalo acetato deve essere trasportato fuori dal mitocondrio. Sembrano di sé infinita ma vi giuro che dopo questa le altre sono molto più semplici. Per l'ossalo acetato infatti non c'è un trasportatore quindi non entra e non esce dal mitocondrio da solo. Per far uscire dal mitocondrio l'ossalo acetato questo dovrà essere ridotto a malato. Tramite la malato dei drogenasi mitocondriale l'ossalo acetato diventa un L malato formando NAD+. A questo punto l'L malato ha il sistema di trasporto che lo fa uscire dal mitocondrio quindi il malato esce e una volta nel citoplasma viene di nuovo convertito in ossalo acetato ad opera di un malato dei drogenasi citosolica che catalizza appunto la reazione inversa rispetto a quella che è avvenuta nel mitocondrio. Questo per i più attenti di voi ha fatto sì di ottenere non solo l'uscita dell'ossalo acetato ma anche gli elettroni del NADH mitocondriale che sono stati trasferiti sul NAD citosolico e questo è importante perché il NADH formato da questo meccanismo viene utilizzato nella via gluconeogenica. Finalmente l'ossalo acetato tramite la fosfenol piruvato carbossichinasi viene convertito in fosfenol piruvato grazie all'intervento di un nucleoside terifosfato che non è l'ATP ma è il GTP anche se dal punto di vista energetico è del tutto simile all'ATP. Questo sembra un dettaglio da niente ma spesso all'esame potrebbero chiedere dove ritroviamo il GTP al posto dell'ATP quindi ti consiglio di ricordarlo. Quindi grazie alla fosfenol piruvato carbossichinasi abbiamo una decarbossilazione seguita da una fosforilazione dell'ossalo acetato con la formazione del fosfenol piruvato e a questo punto diciamo che gran parte del gioco è stato fatto perché ripartiamo con le reazioni inverse della glicolisi. Da fosfenol piruvato si va a 2-fosfoglicerato tramite l'enolasi poi il trasferimento di un gruppo fosforico tramite l'enzima fosfoglicerato mutasi e ancora una reazione in cui viene utilizzato ATP per convertire il 3-fosfoglicerato in 1-3-bisfosfoglicerato tramite la fosfoglicerato chinasi. Questo tramite gli stessi enzimi che catalizzano le reazioni reversibili della glicolisi che ho già descritto appunto nell'altro video. Dall'1-3-bisfosfoglicerato si forma la gliceraldeide 3-fosfato ad opera della gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi. La reazione avviene in questo caso nel senso della riduzione a gliceraldeide 3-fosfato utilizzando il NADH, proprio quel NADH formatosi nel citoplasma associato all'ossalacetato che ho detto prima e quindi è utile proprio perché utilizzato come agente riducente in questa reazione. Quindi nel nostro percorso che avverà due volte perché ci serviranno due molecole di piruvato arriviamo a due molecole di gliceraldeide 3-fosfato. Una delle due diventerà diidrossiacetonefosfato grazie all'atrioso fosfato isomerasi. Poi tramite l'aldolasi la molecola di gliceraldeide 3-fosfato reagisce con quella di diidrossiacetonefosfato dando origine al fruttosio 1,6-bisfosfato e tutto tramite gli stessi enzimi e le stesse reazioni reversibili. Ed eccoci la conversione del fruttosio 1,6-bisfosfato a fruttosio 6-fosfato dovrà avvenire seguendo una via diversa rispetto a quella della glicolisi visto che la reazione opposta era appunto irreversibile ed è una reazione di idrolisi catalizzata da una idrolasi che scinde un legame estere con un gruppo fosforico ed è detta fosfatasi. L'enzima in particolare che catalizza questa reazione irreversibile si chiama fruttosio 1,6-bisfosfatasi 1, l'1 che sta a indicare il fatto che scinde appunto il legame in 1. Il fruttosio 6-fosfato viene poi convertito in glucosio 6-fosfato grazie a un processo di isomerizzazione della fosfoesoso isomerasi e a questo punto ci troviamo di fronte all'ultima reazione della gluconeogenesi che non è in comune con la glicolisi in quanto anch'essa è una reazione irreversibile. La conversione del glucosio 6-fosfato in glucosio avviene grazie a un'idrolisi del legame fosfoestere perciò come l'altra avviene grazie a una fosfatasi la glucosio 6-fosfatasi. Quest'ultimo enzima si trova per lo più a livello del fegato per la maggior parte e del rene invece non moltissimo. Una cosa importantissima è che la glucosio 6-fosfatasi ha una localizzazione cellulare caratteristica. Infatti questo enzima è un enzima di membrana del reticolo endoplasmatico in cui il suo sito attivo è rivolto verso il lume del reticolo endoplasmatico. In questo modo si ha la separazione della reazione catalizzata dalla fosfatasi da quella catalizzata dall'esochinasi che è la prima della glicolisi che si trova infatti nel citoplasma e questa separazione dei due siti catalitici allo scopo di evitare che l'attività dell'esochinasi sia cancellata dall'attività della glucosio 6-fosfatasi. Infatti se questi due enzimi si trovassero nel solito organello produrrebbero uno il substrato dell'altro enzima formando così un ciclo chiuso in cui si avrebbe soltanto un consumo di energia. La glucosio 6-fosfatasi avendo quindi il sito catalitico rivolto verso il lume del reticolo endoplasmatico può svolgere la sua attività catalitica solo quando il glucosio 6-fosfato si accumula nel reticolo endoplasmatico ovvero quando si ha una inibizione della via glicolitica con un funzionamento maggiore della via gluconeogenica. Quindi in conclusione la posizione particolare della glucosio 6-fosfatasi ha lo scopo di separare il processo glicolitico da quello gluconeogenico. Il glucosio che si forma dalla via gluconeogenica dovrà uscire dal lume del reticolo endoplasmatico grazie alla presenza di un trasportatore poi dovrà uscire dall'epatocita sempre grazie a un trasportatore di membrana ed entrare nel circolo epatico fino a raggiungere l'organo bersaglio come abbiamo detto per esempio il cervello che utilizza molto il glucosio come fonte di energia. Ora prima di chiudere il video e andare a fare merenda o uno spuntino di mezzanotte facciamo un bilancio della gluconeogenesi considerando le varie tappe. In rosso le reazioni della gluconeogenesi in nero le reazioni comuni. Il bilancio della gluconeogenesi è appunto quello riportato qui in slide ovvero 2 piruvato più 4 ATP più 2 GTP più 2 NADH più 6 molecole d'acqua ci darà glucosio 4 ADP 2 GDP 6 fosfati inorganici e 2 NAD+. Perfetto mancherebbe una piccolissima parte sul ciclo di cori ma non mi sento di darti altre informazioni adesso perché questo video è molto carico. Ti consiglio per studiare meglio e per comprendere a fondo tutti questi processi di ripassarti e riguardarti le reazioni della glucolisi e della gluconeogenesi e di scriverti proprio una mappa da appendere da qualche parte con tutti i vari collegamenti. Nel prossimo video vedremo oltre al ciclo di cori anche la regolazione del processo di glucolisi e di gluconeogenesi per cui sarà bene avere chiaro quali sono le reazioni coinvolte. Per il momento è tutto iscriviti al canale per non perderti i prossimi contenuti potrai anche sostenere il canale con una donazione dal super grazie in chat oppure dai link in descrizione. Io ti ringrazio per l'attenzione e ti aspetto al prossimo video. A presto!